Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con i video dedicati al corso avanzato sui tarocchi Rider White e parliamo del due di coppe che in due parole si può dire rappresenti un'armonia di intenti. Adesso ovviamente andiamo a vedere i dettagli per capire meglio questo arcano. Nel due di coppe vediamo un brindisi che è un inno all'armonia e alla concordia rappresenta il rito di due persone che hanno scelto di unirsi. La volta scorsa abbiamo visto che l'asso di coppe si associava al temperamento e alla stagione invece per tutti gli altri arcani che non sono assi l'associazione avviene con il pianeta e con il segno. Venere in cancro. Venere affettuosità, socievolezza, romanticismo, amore per l'armonia e la bellezza, sensualità e seduzione. Cancro, unione, associazione, gestazione, maturazione dei frutti, riconoscimento delle proprie radici. Vediamo i simboli. Nella parte superiore della carta si trovano raggruppati vari simboli. Il caduceo di Hermes e una testa di leone, ai lati della quale due ali aperte si dispiegano sopra gli amanti. Il caduceo, antichissimo simbolo greco che rappresenta la guarigione e la sapienza, nella carta sorregge la testa del leone, nel significato che l'istinto primordiale può essere guidato dalla forza dell'amore. I significati divinatori ci parlano di una forza magnetica che unisce i contrari, innamoramento, affinità emotiva e amore corrisposto. Auspica matrimonio, passione, sincerità, amicizia e affetti profondi. Indica anche un legame e intensi rapporti amorosi. Con il due di coppe l'uomo si avventura nel campo dell'amore vero, quello che si dona generosamente senza chiedere nulla in cambio, che va quindi oltre la sfera sentimentale. Rappresenta la ricerca dell'integrazione e della completezza dell'uomo, perché è amando l'altra persona che il singolo individuo si completa. Di conseguenza la persona amata appare come la proiezione del nostro sconosciuto e attraverso questo amore noi accettiamo e amiamo noi stessi. Nel due di coppe la forza magnetica che unisce i contrari simboleggia il matrimonio, gli affetti profondi, la ricerca dell'unione con l'altra persona. I diversi aspetti dell'arcano sono l'aspetto psicologico, questo arcano indica le illusioni e le fantasie che l'innamoramento produce nella persona, indica l'irresistibile fascino dell'essere amati e rappresenta il sentimento più bello che l'uomo possa sperimentare. Aspetto intellettuale manifesta la capacità di appassionarsi a un pensiero, l'intelligenza immaginativa che crea armonia e bellezza e rappresenta la creatività artistica. Aspetto emotivo indica la felicità che l'amore corrisposto dà, così come sensazione di essere perennemente innamorato dell'amore e l'uomo che esprime i propri sentimenti attraverso l'arte e verso l'arte. Aspetto materiale, l'arcano indica l'uomo che trae giovamento dalle sue relazioni affettive, rappresenta gli affari chiusi con profitto sulla parola, gli ambienti armoniosi ed eleganti e le serate romantiche, simboleggia inoltre l'affinità emotiva. Abbiamo terminato anche questo viaggio all'interno dell'arcano del 2 di Coppe, io spero di esservi stata utile, di avervi anche tenuto compagnia, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme!